Sono le 10 di mattina e mi devo tagliare i capelli perché devo fare oggi pomeriggio le foto per la copertina del nuovo libro che ho scritto. Dovendomi tagliare i capelli sono andato al salone di bellezza di Salvo Binetti. Saluta Salvo, saluta buongiorno. Adesso qui potete vedere il suo salone di bellezza, vedremo adesso quanto mi farà diventare bello. E il risultato finale di questo taglio, beh, giustamente lo potrete vedere comprando il libro che uscirà tra qualche mese perché altrimenti, voglio dire, io ci devo anche guadagnare qualcosa. Qualcossina la dobbiamo far guadagnare a sto ragazzo, li merita. Poi io ci provo a farlo diventare bello, sarà difficile però lo scoprirete nel libro. Lo scoprirete nella copertina del libro. A proposito, a proposito, il libro avrà questo titolo, comprare o vendere casa al meglio. E c'è già la copertina che è fighissima ma naturalmente per motivi di copyright non posso farla vedere. Comunque sarà un altro, secondo me, un altro nuovo bestseller. Auguriamocelo. Ciao ciao. Ciao. Saluta Salvo. Ciao ragazzi. Ciao.